ben trovati all'oroscopo di lunedì 23 novembre si festeggia a santa flora ariete giornata molto fortunata si può rafforzare un legame d'amore far nascere un bel rapporto di amicizia per quanto riguarda il toro è un buon inizio di settimana che segna sviluppi nelle situazioni professionali sono davvero promettenti gemelli nuovi interessi nuove esperienze mettono in moto curiosità ed entusiasmo ai quali voi giustamente volete dare un'apertura e senza limiti buone notizie per il cancro in cerca di soluzioni se oggi siete concentrati sui problemi che vi riguardano senza sentirvi troppi incerti troverete senz'altro la soluzione giornata fortunata per il leone amore amicizie che si rinsaldano e che fanno vivere momenti davvero felici per quanto riguarda la vergine l'attività segna una fase di espansione l'immagine sociale è in primo piano e molto ben illuminata ottima giornata anche per la bilancia c'è un buon equilibrio tra sogni e realtà buone notizie per chi aspetta un avanzamento di carriera scorpione in amore assecondate quel desiderio di inventarvi situazioni eccitanti in cui coinvolgere ovviamente il partner ci sono un po di tensioni amici del sagittario parola d'ordine self control ad ogni modo sappiate che le energie positive sono superiori a quelle negative capricorno tra una persona che vi fa troppi complimenti e una che vi critica tenete in maggiore considerazione la seconda acquario molti settori positivi più agevolato è quello sentimentale datevi quindi da fare per realizzare un sogno tanto romantico quanto avventuroso e chiudiamo con i pesci prudenza visto che le stelle indicano una giornata all'insegna del nervosismo e dell'impulsività è tutto per oggi appuntamento coloroscopo è rimandato a domani grazie a tutti grazie a tutti